Stefania Belmondo a Mondo V questa mattina per la settimana dello sport incontro con gli studenti dell'istituto comprensivo Mondo V2 quali sono le emozioni le sensazioni al termine di questa mattinata? Sempre bello incontrare dei ragazzi soprattutto ragazzi che che ascoltano che sono ascoltare e adesso andrò anche a Villanova e io credo che il fatto che mi abbiano invitato qui oggi è positivo e cerco di trasmettere qualche valore che ha fatto parte sempre della mia vita Tanti quesiti che le hanno posto i ragazzi al termine del suo intervento in particolare sulle gare ovviamente tanta curiosità qual è la vittoria insomma che si ricorda con più piacere ovviamente sono tanti i successi di Stefania Belmondo quindi sceglierne una magari scegliamone tre ecco un numero perfetto sicuramente le due vittorie olimpiche campionati del mondo però poi ogni vittoria ha un sapore diverso ed è particolare comunque molto bella da ricordare un'ultima battuta sul movimento azzurro dello sci di fondo sia maschile che femminile che sta trovando forse finalmente nuova linfa e anche sui recenti casi ahimè di doping occorsi ai mondiali in Austria abbiamo un Federico Pellegrino maldostano molto molto forte molto bravo ha vinto delle medaglie anche i mondiali per quanto riguarda il campo femminile continuano a lavorare di impegnarsi io sono sicura che prima o poi i risultati arriveranno il problema del doping quello c'è sempre stato però io credo che bisogna continuare a abbattere su questo chiodo perché comunque è una piaga che ci portiamo dietro e non è giusto che sia così soprattutto nel mondo dello sport dove dovrebbe esserci pulizia salute e tutto quanto